Bruno San Martino, nato a Pizzoferrato, provincia di Chieti, il 6 ottobre del 35 e morto a Pittsburgh in Pennsylvania il 18 aprile 2018, era soprannominato la leggenda vivente del wrestling per essere stato il più grande campione del mondo nella storia della federazione. Ha detenuto il titolo per un totale di 11 anni complessivi. Il 5 agosto 2017 è stata eretta a una statua di tre metri in suo onore nella sua città natale. Bentornati nel mio canale amici, amici nuovi e amici vecchi, intendo dare il benvenuto ai nuovi iscritti e un caro saluto a coloro che già sono iscritti nel mio canale. Ricordo a chi non è iscritto e che sta vedendo il video che iscrivendosi supportano il mio canale, il cui scopo è quello di far conoscere l'Abruzzo e non solo, quindi l'Abruzzo ma anche le regioni confinanti, far conoscere il territorio, il territorio che troppo spesso è sconosciuto o perlomeno sono conosciuti i luoghi già noti, i luoghi famosi, ma ci sono tanti, tanti luoghi meno famosi o semi sconosciuti ma che sono altrettanto belli ed io ho intenzione di farli conoscere. Per cui supportate il mio canale, aiutatemi a farlo crescere e il nostro territorio sarà sempre più diffuso, conosciuto da tutti. Bene amici, la destinazione di oggi è in montagna, in alta montagna della provincia di Chieti. Oggi andremo a Pizzo Ferrato, un paese veramente molto molto caratteristico, molto bello e di oggi ve lo faccio conoscere. Un abbraccio a tutti e a rivederci a Pizzo Ferrato, provincia di Chieti. Vi saluto sempre col mio solito ciao, ciao, ciao. Siamo appena arrivati a Pizzo Ferrato. Ci inoltriamo fra le strette vie del centro per raggiungere la sommità della grande roccia che sovrasta il paese. Siamo appena arrivati a Pizzo Ferrato. Grazie a tutti. 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 Ci troviamo quasi alla sommità della grande roccia che sovrasta il paese e questo è ciò che si vede quassù. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Panorama su Pizzo Ferrato. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.